Siccome si aprono così, talmente veloce, veloce... No, voi dovete dire i colori. Siete pronti? Tira, dai! Ah, lo so, è difficile, è difficile. Allora, almeno fate l'ultimo più grande, soffio magico che potete fare. Aspettate, al mio tre. Uno, due, tre. Avete visto che va dove siete stati? Eh, Vago G vi saluta!